Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. È stato da poco rilasciato il primo teaser trailer di Alien Romulus, nuovo capitolo della saga Alien che ha un po' il compito di riportarci alle atmosfere originali. E dal trailer effettivamente sembra che questo aspetto verrà mantenuto. Ad ogni modo vediamo di fare qualche considerazione appunto sul teaser trailer di Alien Romulus dando anche qualche informazione e ovviamente qualche parere personale. Come al solito prima di iniziare vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Trattandosi di un teaser trailer non è esattamente lungo e ci mostra diciamo il giusto, anche perché secondo me di recente i trailer cominciano a mostrare un pochino troppo, quindi a volte è meglio non mostrare diciamo le bombe del film. Ogni riferimento a Godzilla e X-Kong è puramente voluto. Battute a parte che cosa vediamo in questo trailer di Alien Romulus? Vediamo quella che è l'ambientazione, ossia una stazione spaziale che verrà appunto infestata da una nidiata di xenomorfi, nello specifico nel trailer vediamo diversi facehugger, devo dire anche piuttosto aggressivi visto che saltano a destra e a manca nel tentativo di appiccicarsi alla faccia di qualcuno. Vediamo anche uno xenomorfo per poco alla fine, giusto per farci capire che ci saranno, ma ovviamente è ovvio che ci sono, sono loro i protagonisti del film. E vediamo anche lo sventurato equipaggio di questa stazione che si chiama appunto probabilmente Romulus o di una nave, vediamo insomma si vede sia una nave che una stazione quindi bisognerà vedere quale delle due è Romulus. Ad ogni modo vediamo l'equipaggio di questa stazione alle prese appunto con gli alieni. Vediamo la protagonista femminile del film impugnare anche un'arma, probabilmente diciamo sarà lei, che se la caverà ricalcando un po' quella figura di Helen Ripley resa famosa dal primo alien, e in generale vediamo delle atmosfere molto claustrofobiche, molto legate appunto all'elemento dello spazio dove non c'è via d'uscita, dove nessuno ti sentirà urlare per citare la famosa tagline dello stesso alien. Un ritorno quindi prepotente alle origini, a un alien dove non ci sono ampi spazi, ma un alien dove tutto si gioca in una nave, in una stazione spaziale, dove tu non puoi effettivamente nasconderti da queste creature così spietate. Mi ha ricordato anche in certi momenti il videogioco, o per meglio dire le atmosfere del videogioco Alien Isolation, quindi insomma sembra che vogliono proprio tornare di prepotenza alle origini, cambiando completamente l'impostazione rispetto a Prometheus, rispetto anche ad Alien Covenant dove c'erano interi pianeti, templi, grandi edifici sintetici, qua ci saranno sintetici ovviamente, tra l'altro dovrebbe anche esserci un ritorno del sintetico visto in Alien, il primo alien, con la voce di Ian Holm ricreata con l'IA. Ho letto questa cosa, non so se sia vera, spero di no perché sarebbe un po' strana, però capisco che essendo un sintetico ci sta che ce ne siano di più di quel modello. Prendete questa cosa con le pinze, non è ancora confermata. Per quanto riguarda la collocazione temporale di questo film e la sua collocazione all'interno del franchise di Alien, dove lo mettiamo? È un film abbastanza indipendente, uno stand alone, nel senso un film che starà da solo, non si dovrebbe ricollegare direttamente ad altre pellicole, però a livello temporale sappiamo che si colloca tra Alien 1, quello il primo, insomma, e Aliens, il film di James Cameron, quello con i marini spaziali, quello più battagliero. Quindi in quel lasso di tempo lì. L'estetica generale, i toni del film sembrano proprio ricollegarsi direttamente al primo Alien. Per il resto quindi mi aspetto un film marcatamente horror, marcatamente incentrato sul fatto di sopravvivere contro gli xenomorfi. C'è una scena nel trailer che è puro Giger al 100%, con l'alieno che ha infilato una sua parte del corpo nella gola di una persona. Sappiamo che gli xenomorfi di solito non infilano così i propri embrioni nelle vittime. Di solito lo fa il Facehugger, che appunto non ha quel tipo lì di, non saprei come altra chiamarlo se non proboscide, ma non è una proboscide. Una cosa simile si è vista in Alien vs Predator 2, in Alien Requiem. Lì c'era il Predalien che appunto depositava gli embrioni di xenomorfo direttamente tramite la gola a delle sfortunate donne incinta. Questa cosa mi ha un po' appunto ricordato sia i primi concept di Giger, dove vi era una cosa del genere, sia appunto Alien vs Predator 2. Vediamo se ci sarà una nuova variante di xenomorfo oppure una nuova modalità riproduttiva appunto per gli xenomorfi che è un po' diversa da quella vista in Alien e in Aliens. Quando uscirà il film e soprattutto dove? Alien Romulus uscirà il 14 agosto, una data di uscita che per il mercato italiano è un po' infelice, nel senso siamo sotto ferragosto, un periodo in cui molta gente sarà lontana dalle sale, perché magari sarà in vacanza, alcuni cinema potrebbero addirittura essere chiusi, non so perché abbiano scelto questa data per l'Italia. Ad ogni modo il film appunto esce al cinema, penso che poi dopo un lasso di tempo più o meno lungo arriverà su Disney+, essendo il franchise Alien di proprietà della Fox e ora quindi proprietà della Disney. Per il resto, insomma, io penso di andare a vederlo al cinema se ne avrò occasione, anche perché sicuramente l'atmosfera del film, vista sul grande schermo, potrebbe rendere meglio. Cosa mi lascia quindi questo trailer? Da un certo punto di vista mi lascia soddisfatto, nel senso vedo appunto un ritorno alle origini, un ritorno a un Alien più marcatamente horror e meno incentrato sulle dinamiche della creazione degli xenomorfi, del loro rapporto appunto con gli ingegneri, tutte le tematiche che Prometheus e Covenant avrebbero potuto sviluppare, e in parte hanno anche sviluppato, sapete che secondo me quei film non sono bellissimi, si poteva fare meglio. Quindi rivedere appunto un Alien più centrato sul focus dei primi Alien mi fa indubbiamente piacere. D'altro canto mi sembra un po' un generic Alien, nel senso per ora non sembra avere una particolare anima, sembra appunto un classico prodotto che ci possiamo immaginare, tutti noi fanno, tutti coloro che conoscono il personaggio di Alien, ossia una stazione spaziale, corridoi stretti, gente che viene squartata e scene di, diciamo, attacco a sorpresa da parte degli xenomorfi. Sembra un po' questo al momento. È ovvio che essendo un teaser trailer, credo che non abbiano voluto mostrarci i momenti più spinti, i momenti più spaventosi, le trovate che dovrà avere questo film, sperando appunto che le abbia, se no si fermerà veramente ad essere un buon film su Alien, molto simile al primo, con uno spirito sicuramente più tradizionale e morta lì. Online girano dei rumor sulla possibile trama, su delle possibili svolte narrative all'interno del film, ma occhio ragazzi, sono appunto rumor, quindi vanno sempre presi con le pinze. Intanto ci gustiamo questo teaser, forse, anzi, senza forse da qui a agosto, uscirà magari un trailer un pochino più lungo, però credo veramente che il film sarà questo, ci offrirà appunto una classica storia di Alien, una classica storia incentrata sulla sopravvivenza, a tutti i costi contro lo xenomorfo. Ecco, speriamo che il personaggio protagonista, la donna, non sia semplicemente una copia a carbone di Ellen Ripley, perché comunque Ellen Ripley è inarrivabile e questo nuovo protagonista femminile ne uscirebbe sicuramente inferiore, o comunque in un confronto, diciamo un po' impietoso. Però diamogli comunque il beneficio del dubbio e vediamo appunto che cosa succederà nel film. Spendiamo anche due parole sul regista del film, che è Fede Alvarez. Fede Alvarez è un filmmaker specializzato in pellicole del terrore, in pellicole horror. Ha già lavorato a film come La Casa e Ma in the Dark, è un regista che quindi fa dell'horror il suo pane quotidiano. Questo appunto, almeno in teoria, dovrebbe garantirci un film che magari non ti getterà nel terrore, ma ti regala comunque dei buoni momenti di tensione. È ovvio che lo xenomorfo ormai è arcinoto e diciamo le sue caratteristiche, le sue abilità, la sua pericolosità non generano più effetto sorpresa. Insomma, sappiamo bene cosa può fare o non fare questo alieno. Sempre che appunto non gli diano nuove abilità, però a livello di lore non avrebbe senso, perché appunto siamo tra il primo e il secondo alien. Certo è che gli xenomorfi acquisiscono abilità anche attraverso l'unione con varie specie, quindi col materiale genetico delle specie appunto che infettano, quindi magari qualche abilità nuova presa in qualche modo potrebbe esserci. Ad ogni modo appunto sono abbastanza fiducioso su questo Alien Romulus. Non mi aspetto un capolavoro, mi aspetto un onesto film di Alien, un onesto film con il contesto giusto, sperando appunto che non scada un po' nel banale. Questo è il rischio, secondo me non verrà un brutto film, ma rischia di essere un po' banale. Ad ogni modo appunto vedremo magari un trailer, ci aggiorneremo per un commento più approfondito, e poi se no appunto aspettiamo l'uscita. E se no appunto faremo una bella recensione dopo l'uscita nelle sale, in modo appunto da avere un'idea più chiara su questo film. Concludo con un'ultima riflessione, sono contento che sia il franchise di Alien che il franchise di Predator, mi riferisco nel caso di Predator a Prey, siano un po' tornati alle loro origini, nel senso di non voler strafare, di aggiungere cose pacchiane, solo perché bisogna fare cose sempre più grosse, sempre più diverse. Alla fine anche tornando alle origini si può fare qualcosa di buono, si può fare qualcosa non solo diciamo affine al fanservice, ma anche regalarci una bella storia, una bella pellicola. Quindi speriamo in bene e ci terremo appunto aggiornati anche su questo Alien Romulus. Ciò detto non mi resta che chiedere le vostre impressioni e opinioni riguardo appunto ad Alien Romulus, cosa vi ha lasciato questo trailer, vi ha incuriosito, ha lasciato anche a voi un po' la sensazione di generic alien, di film alien generico, oppure siete diciamo più fiduciosi e sicuri che verrà qualcosa di bello, fatemelo sapere qui sotto nella sezione commenti. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché no, attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete fare la sua funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube e in alternativa Peppare TP, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie.